Hai visto preparare una ricetta in tv in La Cucina di Tadà e vorresti provare a rifarla? Niente di più semplice! Premi, freccia su ed entra nella sezione dedicata alla cucina. Metti in riproduzione il filmato e buon appetito! Tadà! Non te lo aspettavi eh! E vengono qui qua come sempre pronti prontissimi ad aprire anche la nostra terza parte di Tadà dedicata alla cucina in compagnia di Pasquale Benritrovato Benritrovato a te Carlotta, buonasera a tutti! Ma soprattutto benvenuta alla meravigliosa Angela! Buonasera! Come stai? Benissimo! Anche noi siamo felici, sono felicissima di avervi in studio anche perché loro arrivano dritti dritti dallo zoo working quindi siamo qua di nuovo per parlare di questa meravigliosa realtà Ma prima, cosa ci presentate? Allora, oggi si è borsuso trovare a dare una variante alla classica carbonara via regina sostituendo i vari ingredienti della via regina con del polpo Ma buonissima! Ci state presentando la vostra carbonara in tutte le varianti carbonara che presentate e cucinate tutti i giovedì e quindi domani sera allo zoo working a Sesto Fiorentino Diamo gli ingredienti senza perdere tempo, prego regia Eccoli qua, ci penso io, 320 grammi di spaghetti un polpo intero, quanto basta di olio, aglio, sale e pepe e poi abbiamo 8 tuorli di uovo e 200 grammi di pecorino romano Per 4 persone? È facile, è facile, è per 4 persone E quindi adesso ci spieghi Pasquale i procedimenti Ho già anche il cappello Ho sempre avuto? Sempre ho avuto Accidente, come mai? Allora, è il bianco, inganna il bianco È vero Si vede con le luci Senti, partiamo dalla cottura del polpo portiamo in ebollizione l'acqua dopodiché caliamo il polpo per 3 volte in modo da fare arricciare i tentacoli Ok Fatto questo procedimento lo lasciamo cuocere per 40 minuti circa Passati questi 40 minuti spengiamo il fuoco e facciamo finire di cuocere il polpo nella sua acqua aspettando che si sia raffreddato E quindi ci siamo già portati avanti Siamo già pronti Quindi dopo 3 volte Che significa? 1 e subito 2 e 3 3 calate, bravissima Una di seguito all'altra Bisogna aspettare A distanza di 10-15 secondi 10-15 secondi Poi 40 minuti In acqua bollente E poi lo tiriamo fuori Spengere il fuoco e lasciar finire di cuocere il polpo nella sua acqua Per quanto tempo? Per quanto tempo si raffredda l'acqua È facilissimo È facilissimo Quindi prossimo procedimento Prossimo procedimento Prenderemo il polpo Incredibile Ok Lo taglieremo Tentacoli Ok Questo è quindi il giusto iter è sempre da rispettare Sì Quindi prima testa e poi tentacoli Sì Ok Possibilmente della stessa grandezza Sì dai Per garantire anche una cottura omogenea Giusto? Andiamo a mettere dell'olio A livello di teoria ci sono eh Sa tutto Ma anche di pratica Massima Iniziamo Dai anche con la pratica Ma Angela Ti occupi proprio di questa area Versiamo dell'olio Dello Zofood Sì Che bella soddisfazione Molto È una soddisfazione a tutti i livelli Non solo nella parte organizzativa Comunque del Dell'area proprio food Certo Tutte le iniziative comunque che abbiamo all'interno Perché sono tantissime queste iniziative Tu sei la responsabile e di conseguenza Sì Non ti deve mai sfuggire niente Niente Non deve mai sfuggire Una delle iniziative tra le più importanti sono le cene aziendali Le cene aziendali Sì Adesso che ci avviciniamo al Natale Chissà quante chiamate no? Tantissime scene ma anche tantissime pranzi Perché comunque possiamo anche servire durante le giornate Cioè chi magari non può per distanza o comunque sia altro fare le scene Serviamo anche pranzi aziendali Certamente Pasquale Allora io procedo con la preparazione Ho fatto il polpo a tocchetti Quindi gli spaghetti non vanno spezzati Mai spezzato lo spaghetto Rientriamo anche con voi nel team di non spezzare gli spaghetti Mai spezzato È un assassino L'altra volta c'era l'anduia non tanto assassina Stasera abbiamo gli spaghetti da non assassinare Sto procedendo con la cottura del polpo Ascoltiamolo perché lui è partito Lo porterò alla giusta croccantezza Dopodiché andrò a togliere il polpo dall'olio agli aso Certo E ricordiamo che l'aglio non è assassino anche l'aglio L'aglio è sempre meglio toglierlo però Perché capita sempre a me Oggi l'assaggio ce l'ho fare io No togliamolo allora l'aglio Togliamolo l'aglio Per favore Pasquale Vai, levata, vai tranquilla Da quanto lavori a ZooWorking? Eh Che domanda Che domanda Praticamente ancora erano in Stavano ancora facendo i lavori di risultazione Quindi si parla degli anni Spine 2017-2018 Inizio di 2018 Ok E Pasquale invece? Pasquale è entrato nel 2019 19 Ha subentrato in corsa Che grande acquisto Sì Perché senza Pasquale No dai Lo Zoo Food Non viaggia Perché le idee un po' bizzarre Devano essere anche poi messe in atto Le nostre carbonare Volute dal nostro Emiliano Che ci sarà sicuramente seguendo E lo salutiamo Dobbiamo salutare ovviamente tutto il team Tutto il gruppo di ZooWorking Quindi non solo Emiliano Ma io saluterei anche Se mi permetti Carlotta Ma certo Angela Davide e Alessandra È il vostro lo sport Che fanno parte del nostro team Bravissima Angela E Un bacione E comunque sia Tutti quelli che fanno parte del nostro gruppo ZooWorking Ovvero Margherita Margherita Che la conosciamo Che la conosciamo Luisi d'amico Lo conosciamo molto bene Sono tutti amici di Tadà Daniele Cazzelli Daniele Claudio Attenta perché se adesso ti dimentichi di qualcuno Ci metterei Radu anche Il nostro tuttofare E mettiamo anche il tuttofare Soprattutto Stiamo molto attenti Alla cottura di questo polpo Perché sta un po' schizzando dappertutto Lo vedi? Cioè Molti schizzi mi sono arrivati È il male della cucina Questo è il bello della diretta È l'emozione che non ti fa sentire No proprio Ma insomma avrei anche un po' paura Ti stai lontana Io mi sto intanto allontanando Dai sto scherzando Dai ci siamo qua E tra l'altro questa è solo una delle tantissime carbonare Che offrite il giovedì Le ripetiamo un po' Sì La classica Facciamo venire l'acquolina in bocca Allora la classica Quella Poi abbiamo la calabrese Quella crema di tartufo Sì Che c'è per il tartufo? Poi abbiamo il risottino alla carbonara Lasagna dalla carbonara Sì Poi abbiamo quella col petto d'anatra Il limone La vegetariana Questa mi manca Sarà la prossima Sarà la prossima se tutto va bene La prossima che presenteremo Ok No non la presentiamo perché l'ha già spolerata Quindi ne presentiamo una No perché non ho detto cosa Vabbè ma poi un conto è dirla E un conto è farla Viverla con tutti i passaggi I procedimenti Bravissima Ci piace questo No Pasquale È vero? Bravissima Io di maglia la devo dire Sbaglio c'è anche il riso Il risotto C'è il risotto Il risotto Il risotto Il risotto Il risotto Io l'ho mangiato Buonissimo Buonissimo E poi cosa E poi questa nuova Che stiamo presentando questa sera Che noi abbiamo già testato La carbonara di polpo E poi la classica via regina Ok Che non è la carbonara di mare È la carbonara di polpo Perché c'è differenza Giusto? Bravissima Se tutti ingri So tutto So tutto Bravissima A proposito di offerte Che cosa state pensando? No? Che siete sempre ad arricchire Il menù Siete sempre a pensarne A una diversa Stiamo pensando A tante altre serate A tanti altri eventi E Non voglio Come dice Pasquale Spoilerare tanto Ma Ma invece spoileriamo Spoileriamo Vedremo Vedremo andando Va bene Perché insomma Sarete i nostri ospiti In altre puntate E quindi Sì Sicuramente Lasceremo la cigliacina Sulla torta Per le prossime Però ecco Il tuo lavoro Ti porta davvero A stare a contatto Con tutte le persone Che si affacciano A zoo working Questo è bellissimo Cosa significa per te? Beh È È bello Perché comunque sei La prima persona Alla quale loro si approcciano La mattina Appena arrivano Arrivano Entrano nel nostro Zoo food Per l'appunto Prendono il loro cappuccino La loro brioche Io ne so qualcosa Io ne so qualcosa Di tutti E tra l'altro E tra l'altro Noi abbiamo raggiunto anche un certo clima con la clientela Tanto da organizzare anche serate all'esterno Un po' tipo team building Non è team building Perché comunque sono clienti Ma usciamo Facciamo partite di beach volley Andiamo a giocare al bowling Andiamo alla fiera Anche perché Zoo working è davvero un mondo Un mondo da scoprire Che offre tantissime cose Non ti sembra di lavorare? Anche la palestra Anche la palestra Perché prima della carbonara Andate in palestra E qualcuno si ritorna anche la mattina dopo Ma certamente Ma certamente Capiamo un aspetto fondamentale Importantissimo Che ponete tanta attenzione Alla qualità Sì Voi la qualità è fondamentale Fondamentale Un po' anche perché devo stare attenta Emiliano guai Emiliano poi proponiamo qualcosa Che non deve essere Però E li puoi Preparare a farlo arrabbiare Emiliano E capito Che succede chef? Fermi tutto Bisogna pulire Se funzionava che c'ero io Non era normale No no Va pulito perché Ma hai visto cosa ha combinato qua? Per favore Aiutiamo a pulire il top Vieni dammi un cincino pure a me Guarda Sempre Poi per colpa tua Devo portarlo di nuovo In lavanderia Il mio crembiolino di tada Però Lo sacrifichiamo per questi momenti Dai Allora Fermi tutti E la parte di sopra Va posizionata proprio al centro Ok Vai Facciamo una cosa Proviamo a spenderlo E lo riaccendiamo Dai E' una cosa Angela Voglio sapere una cosa A parte la qualità Scusami perché io ti ho interrotta Sulla qualità Sono curiosa di sapere qual è la tua carbonara preferita Ecco Allora Una Sono sincera Io adoro le carbonare Oddio Ho appena fatto una domanda Mi sono appena ricordata Che Angela E vi trovate di preciso A Sesto Fiorentino Ok Ok Ma dove Proprio di fronte alla fermata Zandra È facilissimo Grazie C'è il vostro parcheggio privato Parcheggio privato Quindi non c'è neanche problemi di non trovare posto No Assolutamente Oltre quello Poi Tutte le volte che devo raggiungere un posto La prima domanda che mi faccio è Dove posso parcheggiare Ma posto Ma il posto Per l'auto Lo troverò A Zeworking Si trova Non vi preoccupate Si trova Si trova Pasquale Abbiamo risolto Abbiamo risolto Mi mette sempre in crisi questa piatta No 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 Non brontolare il nostro piano in tozione Ogni tanto si emoziona Anche perché ti sente Attenzione che qua ti esce tutto fuori Buttiamo un po' giù questa fiamma Perché siamo Riportalo lì Ci penso io Non ti preoccupare Fici a caso Pasquale Vai E non la conosco amore mio Fiamma Medio alta Bene Va bene così Ci siamo Io a questo punto Andrò ad aggiungere l'acqua di polpo Certo Sull'ogio in cui abbiamo cotto Il nostro polpo Si Ok E porteremo A termine di cottura Lo spaghetto A quanto la vuoi questa fiamma? A 6 A 6 Ok Signor C-Chef Grazie carissima Il nostro Acqua di cottura del polpo Che andremo ad aggiungere al nostro olio Dove abbiamo cotto Il polpo Lo aggiungiamo Come mai? Questo per far finire di cuocere Lo spaghetto In modo che prenda ancora più sapore La pasta La pasta Che andremo poi A guarnire Con Con la sua cremina Che andrò a preparare Con uova Formaggio Pepe E sempre un po' d'acqua di polpo Per renderla più morbida Da poter fare Amalgamare meglio Lo spaghetto Ok Ok Prossimamente Dovrete pensare Sempre a un'altra variante Senza uovo Dato che la nostra Angela Non mangia l'uovo Capito Pasquale? Benissimo ragazzi Non è che è quella novità Sono andata vicina Lontana Vicinissima Fuochino Fuoco Acqua 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 Allora sono lontana Lontana Ascolta Spiegaci anche questo procedimento Pasquale Sì Intanto preparo I tuorli d'uovo Che andrò a mescolare Con formaggio Pecorino romano E un pizzico di pepe Certo Ecco Quello che vogliamo far capire A tutti i tadaisti Tutti coloro che in questo momento Ci stanno seguendo E che salutiamo Perché prima abbiamo salutato Tutto il team dello Zeworking Ma ovviamente salutiamo Tutte le persone Che in questo momento Ci stanno ospitando Nelle loro case E che da voi però Si trovano Solo Carbonare Assolutamente C'è una vasta scelta C'è una vasta scelta di food Sì Partendo proprio Spiegacelo Partendo proprio dal pranzo Dalla colazione Dalla colazione Sì Andiamo alla colazione Partiamo alla colazione Che la giornata si inizia bene Con la giusta colazione Dalle 7.30 Potete trovarci a Zewfood Con una vasta scelta di Pezzi dolci Comunque abbiamo anche La vetrina dei salati Oltre a quello Abbiamo yogurt Tutto quello che Comunque può coccolare Il cliente Abbiamo Molti prodotti Personalizzati Ogni prodotto Ha il nome Di un cliente Tra virgolette Non è vero Tu sai Che Tipo Quel cliente Tipo La brioche al pistacchio Brioche al pistacchio Ce ne sono due Perché Tizio e Caio Prendono la brioche al pistacchio E non le puoi far mancare la mattina Se no iniziano male Assolutamente Che bello No e poi ci spostiamo Sulla parte del pranzo Anche lì Tutti i giorni Quindi c'è un'altissima attenzione Al cliente Cambia Cambia Tutti i giorni Il primo Tra virgolette Civetta Del nostro menù Non c'è solamente un primo Ne abbiamo 5 in menù Abbiamo 2 secondi Completamente diversi Tutti i giorni I contorni Sempre diversi Le insalatone Dolci Macedonie Frutta Dolci Dolcissimi Cosa ti chiedo sempre io Angela? Quando vengo a mangiare da voi? L'insalata numero 1 L'insalata numero 1 Se è possibile Con la salsa di soia Bravissima E da cosa è composta questa insalata numero 1? L'insalata numero 1 è composta da Insalata gentile Olive taggiasche Tonno Pomodori Pozzarezza E quindi Io vi presento Carota E sanno già cosa portarmi Meglio di così Ma meglio di così Si fa più veloce Ecco Ovviamente Chi viene a mangiare da voi? Chi lavora Dentro? Chi lavora all'interno? All'interno Perché prende I vari spazi Per vivere a 360 gradi Questo meraviglioso mondo Giusto O se no le persone che arrivano da fuori Persone che arrivano dall'esterno Tipo la sottoscritta Ma con molta Guarda ti dico anche con molta soddisfazione Tanti clienti Che magari si spostano Oppure si sono spostati Che tornano sia Per venire a pranzo Oppure per venire a chiederci Di continuare a fare da noi Le nostre feste aziendali Come dicevamo prima Certamente Interrompo per tre secondi Prego Pasquale Andiamo A chiudere il piatto Sì L'hai fatta la famosa onda? Sì L'ho fatta Te la faccio rivedere Sì Dai L'ho persa Vieni Carlottina Vai Adesso sì che prima no E poi? Poi andiamo ad aggiungerci Il nostro composto di uovo Pecorino E acqua di polpo Mi ha fatto venire L'acquolina in bocca Finalmente ci siamo Perché ci stiamo avvicinando Al termine della puntata Non è della puntata Felice di sacrificarmi Con l'assaggio Bene Che non ce la No, assolutamente C'è l'uovo Pasquale con me Ok Poi se domani mi danno Il giorno libero Posso anche assaggiarla No, no, no Evitiamo Evitiamo Perché qua diamo sempre Il buon esempio Ovviamente sei Allergica Intollerante Sono Intollerante E quindi No, no, no Evitiamo Ma poi è proprio oggi Mercoledì che parliamo Di No, e poi domani Di sera Chi ci sta Andiamo a dormire Con il nostro polpo croccantino Le persone Le persone devono prenotare Allora sì Si può prenotare La prenotazione è importante È molto importante Aspettarlo Certo Avete i vostri Canali social Canali social Instagram Facebook Zoeworking Con una O Bene Che uno pensa No, lo so Allora scrive con due No Ed ecco a voi signori Sbagliate Zoeworking è con una O E andate subito Ad aggiungerli su Instagram E anche su Facebook Complimenti per come è presentata Questa carbonara Grazie Carlotta È importantissimo L'aspetto visivo Perché si mangia Prima con gli occhi O sbaglio Pasquale Tocca a te No Si mangia Non lo scovo Mangia Vai tranquilla Scusa Ti ringrazio Del pensiero Non era un dispetto No amore mio Ti credo È tutta sua Ma mi guarda prende le donne Per la gula Eh Io sono una buona forchetta Bene Mi fa piacere Poi mi devo ricordare Di essere in televisione Quindi questi bocconi Grazie per avermi allontanato Così tanto Bene Regia Grazie Seguitemi Ok Mi devo ricordare Di essere in televisione E quindi questi bocconi Devono essere bocconcini Vuoi impucchiare Vero? Dai Ti accompagno meglio Prego Evitiamo Di sporcare La risoluzione è tutto Prego tesoro Così vero? Sì Il ricciolino di Come complicarsi la vita Dai 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 Bravissima Dai Sucche Se ti vede Soralella Poi che dice? Quindi Può andare Carlotta? Vai Grazie cara Buonissima Grazie E complimenti Anche per la cottura del polpo Grazie Perfetta Perfetta Croccante I sapori si sentono tutti Provare per credere Angela e Pasquale Vi aspettano allo Zoo Working a Sesto Fiorentino Tutti giovedì sera Tutti giovedì sera Quindi anche domani sera E non solo Anche domani sera E non solo Anche a pranzo volendo E noi vi riaspettiamo prestissimo Lo sai Lo sapete Ciao Pasquale Grazie Grazie a te A tutti i tadaisti Invece l'appuntamento è domani 17.15 puntuale E adesso spazio all'informazione Con il nostro TG della Toscana Il TG38 Ciao e buonasera a tutti